Cari telespettatori, ben ritornati con noi, buon inizio settimana, rendere possibile l'impossibile. Si può fare? Ebbene sì, è stato fatto, non è da tutti, però questo vi fa capire come i limiti che tante volte ci poniamo sono superabili, di qualsivoglia genere, a qualsiasi età, quindi non è vero che con la gioventù si può fare tutto, poi quando passa il tempo non si possono continuamente fare dei record personali, individuali nel proprio percorso di vita. C'è chi l'ha fatto, chi continua a farlo, chi ci crede, chi supera, chi va oltre i record, qua stiamo parlando veramente però di record mondiali, però vuole essere un esempio per la vita di tutti quanti noi per non porci dei limiti e delle barriere mentali, altrimenti ci si ferma e si va verso la discesa, il declino. A qualsiasi livello, in qualsiasi ambito, da quello della salute a quello degli sport, noi parleremo di sport in modo particolare, a quello della vita professionale e lavorativa, insomma sono tanti i traguardi che si possono continuare a raggiungere giorno dopo giorno. Per parlare di questo, dei suoi primati che continuano ad aumentare di giorno in giorno, abbiamo qui con noi Giuliano Calore, grazie di supportarci in questa trasmissione, che è pluriprimatista mondiale extreme cycling, cioè di bicicletta estrema. E io chiedo un attimo alla regia di inquadrare perché abbiamo anche l'onore di avere questa bicicletta estrema proprio qui con noi in studio e le caratteristiche, le peculiarità sono quelle di non avere i freni e non avere nemmeno il manubrio, né freni né manubrio. E con questa bicicletta cosa ha fatto? Adesso ci racconterà la sua vita e tutto quanto, ma proprio per fare un grande assunto e per farvi comprendere. Giunto alla verde età ormai di 77 anni, compiuta a gennaio, e quindi per coloro che intorno ai 70 anni si sentono vecchi, non mi sembra proprio assolutamente, può vantare nel suo curriculum vitae di essere campione mondiale di ciclismo estremo, all'attivo dai 12 Guinness nei primati, comunque sarebbero anche 16, 228 medaglie, battuto Bernard Hinault, primato realizzato all'età di 64 anni, ha praticamente conquistato le vette inimmaginabili, ha fatto lo stelvio non si sa quante volte, e insomma 14 passi di montagna in 13 ore, questo è soltanto un assaggio di quello che è il suo percorso di vita. E allora Giuliano Calore, vediamo un po' di raccontare, è difficile raccontare la sua vita perché lei ha anche un libro tra le mani che cerca di farne un sunto ma è qualcosa di impossibile. che cosa, ci racconti chi è lei, chi è lei, come è incominciato l'approccio con la bicicletta, che età, e poi vediamo un po' di percorrere la sua vita. Prima di tutto diciamo cosa rappresenta per me la bicicletta, quando avevo la testa a posto correvo col manubrio, si è ben chiaro. A che età aveva la testa a posto? Beh a 17 anni, fino ai 40 anni ero a posto, poi la follia mi ha portato a raggiungere quei livelli che sono inimmaginabili, ciò che i campioni ritenono impossibili, staccando il manubrio e i freni ho fatto imprese che sono entrate nella storia. E come lei fino a 40 anni faceva già dei primati delle gare delle competizioni oppure andava in bicicletta come tanti altri, che cosa faceva lei, faceva un lavoro normale? Un musicista molto bravo che suonava, perché io avevo un passato musicale notevole di successi, ho inciso anche i dischi, per cui mi dice se non fai delle gare io non suono più con te, è stato un ricatto, perché non è possibile che tu salga fischiando in salita al 18% e io sono lì che ho vinto anche delle gare, che mi arrampico con le mani attaccate al manubrio. Quindi aveva delle doti già, qui stiamo vedendo intanto delle sue performance, che hanno dell'incredibile per far capire, poi ci racconterà bene di che cosa siete, però intanto continui a raccontare. Allora una volta io componevo musica in bicicletta, trovavo un rapporto bicicletta e scoprire le dodromiti con le mie gambe e sentire l'odore dei pini che mi penetrava nei polponi e trasmettevo in musica le sensazioni che provavo. A volte mi dimenticavo il motivo in discesa, mi trovo su sella e lì comincio. Passo sella, quindi quanti metri? A 2200 metri di altezza e c'era vento. Mi viene in mente il motivo, trasmette in musica le sensazioni che provavo, stacco le mani dal manubrio e comincio a scrivere la musica. Lì avevo 20 corridori dietro di me, così, gente che passava allo stelvio, su sella e lì ho dovuto accelerare, altrimenti la ruota si gira col vento e non vedo più questi corridori. Quando arrivo in cima, arrivano circa 10 minuti dopo di me, mi toccano, mi guardano. Cosa c'è? Ma da dove vieni da Marte? E noi erano riusciti a tenerle la ruota. Però già io avevo altre, già da piccolo avevo quelle cose che la madre natura mi ha dato, il cielo me le ha date, non è merito mio, se è ben chiaro. Poi, per esempio, facevo 100 piscine, non mi fermavo mai, notavo malissimo. 100 vasche, quindi. Passavo da un albero all'altro con un'agilità sorprendente, quindi c'era l'agilità, e poi avevo una resistenza incredibile, insomma. Poi però i successi musicali, il mio lavoro, mi avevano portato un po' via dall'ambito della bicicletta. Mi persa la forma fisica, insomma. Per me la bicicletta, andavo per le Dolomiti durante le ferie e me le facevo tutte con la bicicletta, no? Sennò che a 39 anni mi dice questo signore, se non fai delle gare non sono più contento. Mi ha fatto un ricatto, un ricatto. E non perdo un elemento così che suona otto strumenti a fiato, perché avevo veramente un'orchestra favolosa io. Non posso perderlo. Mi costringe a fare delle gare che a me ne interessavano. Tre gare ho distrutto tutti i scalatori in Val d'Aosto per scalatori. Ho portato a casa... Quindi ha superato tutti. Ha superato tutti. Ho portato a casa un morire di trofei. Ho riempito una stanza di trofei. I miei mi dicono, ma se su tre gare mi riempi una stanza di trofei? Se fai 100 gare ci vuole un grattacielo qui. La gara non mi affascinava più, perché la gara è solo forza fisica. Sapevo di avere altre cose di agilità. Ho detto, un giorno metterò assieme un componente di queste capacità e le voglio sfruttare fino all'estremo limite con sforzi sovrumani, fino allo svuotamento totale di un'energia fisica e mentale. E ho cominciato a fare record su record. Subito la RAI è intervenuta nei primi record. Allora, avevo il manubrio poi. C'erano delle contestazioni riguardanti... Poteva succedere che io mettessi le mani nel manubrio nei momenti più difficili. Sono andato del mio sponso, mi levi il manubrio di freni. Ma sei impazzito, dice. Se ti dicono impossibile... Lei mi levi il manubrio... Ho provato ciccogli ugani nostri. Le prove sono riuscite. Quindi ho cominciato proprio di ciccogli ugani e ho provato senza togliendo il manubrio fisicamente. E i freni anche. E i freni. Ho fatto la prova e mi è riuscita. E quando la Gazzetta dello Sport è venuta sullo Stelvio, cinque giornalisti, a vedermi per constatare se veramente potevo fare una cosa simile, che anche per loro che hanno seguito Giro d'Italia, Giro di Francia, Campirante del mondo, è ritenuto impossibile. Gli ho sbalorditi scalando il passo dello Stelvio. Allora vado senza manubrio e dice, ma cosa fa con questa bicicletta senza manubrio? Perché ho detto, non mi scaldi i muscoli e fare quello che voi dite impossibile. E cosa fa con gli quattro strumenti musicali? Ma sa che noia scalare lo Stelvio senza musica. E mi sono trascinato sullo Stelvio quattro strumenti musicali, suonandoli in modo corretto e con l'amplificatore sulla schiena ho emanato musica per tutta la montagna. Lei capisce che sono sforzi spaventosi? Eh sì, assolutamente. E la Gazzetta dello Sport sorpassa i corridori suonando quattro strumenti. Questa è stata una delle imprese, ne ho fatto tantissime. Ecco, noi vedevamo nelle immagini, proprio dal punto di vista tecnico, lei è una bicicletta da corsa, la vediamo anche qua in studio, tra l'altro, ruota sottilissima. Come fai in discesa senza freni? Eh, quella domanda che mi fanno tutti i giornalisti. È impressionante vedermi in discesa. Cioè perché deve muovere la ruota che frena con l'aspetto... Allora vi spiego. Io vengo giù in diagonale sfruttando tutto l'arco della strada. Con un doppio colpo di reni sposto alla ruota anteriore di 70 gradi in continua oscillazione, sbilanciandola, era lento di altri due gradi. Se la pendenza è 9%, la riduco al 5%. Attraverso le diagonalità, gli stessi operatori della RAE si metterono le mani sui capelli perché è spaventoso da vedere questa cosa. Eh, infatti, noi vediamo delle immagini che era spaventato. Allora, a Teolo, diciamo, qui, beh, in queste immagini io ho battuto il tempo di Bernardino, in salita. Quanti anni aveva qui? Qui avevo, eh, avevo oltre 50 anni qui. E mi sono preparato un mese per stabilire un tempo a record sullo Stelvio. Vede che passo tutti i corridori con le mani. E andavo su, gli ultimi tornanti addirittura si parla che ho toccato punti di 28 chilometri in salita. Quindi, vede, passo tutti i corridori, vedi i giudici che continuano a dirmi, cerca di rallentare, perché sei già sopra i tempi di Bernard. Però, l'entusiasmo, la gente che urlava, i giudici con le moto che mi gridavano e rallentavano, puoi reggere un ritmo simile? Possono, non so, avere stiramenti musicali prima dell'arrivo, capisci? Ma l'entusiasmo mi portava e addirittura gli ultimi tornanti, che qui non so, si serve troppo lungo vedere tutto il filmato, vede che passo i corridori da 20 anni, da 22, ho una velocità incredibile, insomma. E infatti, quando Fiorenzo Magni, i gregari di Gino Barti, dicono, per fortuna ti hanno scoperto a 39 anni. Sì, perché sarebbe stato un vero guaio. Però io ho intrapreso, per me fare, vedi, una cosa unica al mondo. Stupire i grandi campioni è il massimo. Cioè, se io avessi vinto in Giro, per fortuna non sono andato a fare 20 anni in Giro d'Italia, perché a me in Giro d'Italia veramente... L'avrebbe annoiata, l'avrebbe... Sì, no, 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 cioè, lo hanno vinto in tante. Io preferisco fare una cosa che sono il primo al mondo a fare, e io ne ho fatto ben 16. Ritornando alle tecniche utilizzate, quindi lei spiegava che nello Selvio, per esempio, lei usa tutta la carreggiata in discesa, usa queste angolazioni, eccetera. Sì, sì. E stava accennando, poi, insomma, di via di sul discorso dei colli Ugani, dove è incominciato, che anche lì ha fatto la prova. Le prove le facciamo sempre di colli. Lei è padovano, per cui ha i colli attaccati e fa la prova nel soft. Certo. E lì come è riuscito? Cioè, qual è stata un po' la tecnica che ha utilizzato? La medesima? Beh, guardiamo quella, allora, quella che farò. Quella che farò, va bene. Quella, questa è la più spaventosa delle imprese. Perché chiaramente, ogni impresa, devo superare a me stesso, la mia è una ricerca insaziabile nel trovare quello che un uomo può arrivare, capisce? Ora, se già ha fatto una sensazione straordinaria la mia discesa dello stelvio di giorno, pensi lei di notte coraggio a Lasano. È una cosa che va fuori da tutti i livelli. L'avevo in mente da 35 anni, io, questa impresa. Però ci voleva un'esperienza di 14-15 record, ufficializzate, prima di arrivare a fare il massimo del massimo. E allora sono andato, il primo giorno, bello mattino e la sera neve. Seconda spedizione, perché l'avevo provato nei colli a San Daniele, a Castelnuovo, su Teolo, andavo di notte con questa pilletta, guardate. Quindi non avevo ancora lo stelvio. Seconda spedizione, ancora, a vuoto, bello mattino e la sera neve. Che stagione la faceva? Ma lo stelvio non aspetta mica verso la fine stagione, sono andato in ritardo un po', però, terza spedizione, brutto al mattino, torniamo a casa. Ero sfiduciato, anche perché avevo già 73 anni. E ho detto, non so se il prossimo anno riuscirò a farla, capisci? Cosa succede? Che alla sera si è riaperto il cielo, voleva assistere Francesco Moser all'impresa. Quella sera, però, abbiamo improvvisato, non poteva assistere, e mi ha detto, non farla che ti ammazzi. E poi, anche Ferdinando Teruzzi, sei giornista, un grande campione del passato, dalla Francia, mi dice, non farla che ti ammazzi. Tutti me l'avevano scusate, ma è più forte di me. Cioè, quando uno le dice no, la paura si scatta il meccanismo perversa. Sono andato sopra, ho chiamato le scuole sciistiche, lì sono conoscentissimo, ci sono messi con una macchina davanti, a 300 metri per non farmi luce, l'altra, a 300 metri di distanza, e venivo giù con questa. Però, quando sono arrivato a un certo punto, sono andato allo sbaraglio, e c'era Gust Vladimir, che è questo signore, Gregario di Contador, quello che ha vinto il Giro d'Italia, che era la rifazione dell'aria. E dice, lei è quel padovano che ha fatto i 14 passi in 13 ore? Sì. Ah, domani vengo a vederla dal vivo? Dice, no, guarda che è questa notte. Come stanotte? Dice. Indomani da me è superato, l'ho fatto al 200 volte lo stelvio, fa trasmissioni televisive, poi le prove e poi il record. Lo seguo, no, tu domani devi correre, ha detto il suo man, non puoi andare a letto tardi. No, no, devo seguirlo. Ha seguito la corsa, non ho sbagliato un colpo. Quindi, il record è già fatto, però il film che uscirà, dovremo fare l'immagine, perché ci mancano le immagini del record, mentre le altre le vedete le ho tutte, qui mancano perché ci vogliono parricchiature particolari. Raggi infrarutti, non me ne intendo io, ci vogliono. Non è facile riprendere una discesa di notte con questo faretto. Io sentivo a un certo punto la mancanza degli incitamenti dei miei tifosi, quando facevo questi record, questo è un entusiasmo incontenivo, e mi sentivo abbandonato in questi tornanti, perché loro, allora col microfono, mi incitavano a distanza, dai, vai avanti. Quindi sentivo il loro aiuto, diciamo, morale, perché mi sentivo un po' disorientato a essere solo con questa lucetta e affrontare 48 tornanti a gomito. Lei deve pensare che devo distinguere la curva a gomito a 4 metri. Quindi sbagliare solo di mezzo metro, lei va fuori. Però c'è un discorso, che io salto con un salto acrobatico, butto via il mezzo in caso di pericolo, però non ho avuto bisogno. Cioè, esatto, come si libera della bicicletta? Prima hai visto quando è sceso dalla bicicletta. Da un colpo di regni, vengo fuori, io ho delle foto, se no ci vorremmo una trasmissione che durò moltissimo, dove vede che vengo fuori dal mezzo, e vengo fuori di mezzo metro, e cado in piedi, in colo, buttando via la bicicletta. E' una cosa, questa che appunto ha sbalordito anche i campioni, perché è lì, ci vuole. Quelle donne di natura che mi ha dato il cielo, di una grande agilità e concentrazione, c'è un po' di tutto, insomma. Non lo so nemmeno io come faccio, veramente, perché me lo domando anche io qualche volta. Ma lei si allena? Beh, certamente, ci vuole di allenamenti. Ma c'è solo in bicicletta, oppure fa anche altre attività fisiche? No, no, la bicicletta. La bicicletta, la bicicletta per me è tutto, per esempio, ecco, posso raccontarle uno dei miei record più incredibili. Quando si fermarono sul Bondone, nell'85, 40 corridori, il Giro d'Italia, si ritirarono per il ghiaccio e per la neve. Vince Charlie Gaul, non ho dormito delle notti, al pensiero di scalare lo Stelvio senza manubrio, senza freni con il ghiaccio. Quindi il ghiaccio era diventato il suo nuovo obiettivo. Il suo obiettivo, perché io ho molti record sul ghiaccio, su piste di ghiaccio, ho fatto uno anche a Padova, il plebiscito, che ho battuto addirittura, triplicato il record, entrato negli indesprimati nel 2002. A Padova l'ho triplicato, non neanche ritoccato, perché ha tentato un norvegese in dieci giri e era già caduto otto volte. E lui è abituato nel ghiaccio. Sì, sarebbe troppo lungo. Comunque le racconto questa del ghiaccio, che è una delle tante. Allora, vengo premiato a Castellarquato da Piacenza, da grandi campioni, vecchi campioni. C'era Binda, vincitore di cinque giri d'Italia, che non andavano più a correre, l'hanno pagato perché rimanesse a casa Binda. Questa è la storia, perché vinceva sempre lui. Poi c'erano Seghezzi, Gregario, Digno Barteli, e mi hanno dato l'ennesima medaglia d'oro, una delle tante. E ho annunciato a Seghezzi, tenterò la salita allo Stelvio con 48 tornanti di ghiaccio. Eh no, dice Galore, ci siamo sesi noi dalla bicicletta con il manubrio e tu mi vieni a dire che Vandone è molto più facile dello Stelvio, che mi scali 48 tornanti. Ho provato a Nicolli e la cosa non mi riusciva, perché con un grado sotto zero la ruota sprofondava nel ghiaccio. Cioè nella neve mi faceva rotaia, non potevo avere più. Sono ritornato, ho telefonato a Vittorio Seghezzi e ho detto guarda che forse questa volta hai ragione. Era la prima volta che mi arrendevo, che avevo già fatto sei recoli. Impossibili, però questa volta. Te l'avevo detto Galore di non perdere tempo, fanno un'altra, disse. Non me l'avesse mai detto. Sono stato 42 giorni a 3.300 metri di altezza sugli ghiacciai dell'Hortless, a studiare i ghiacci. Pensi la costanza. Per arrivare a queste cose bisogna fare tanti sacrifici. Finché ho capito. Ecco lei è andato lì, soffermiamoci su questo aspetto, è andato all'Hortless per studiare. Cioè che cosa ha fatto in questo periodo? Cioè che tipo di analisi ha condotto, di prove? Ecco certo. Allora studiavo la temperatura del ghiaccio perché non sprofondasse le ruote fine sulla neve e lì ci sono delle foto appunto sulle riviste che rappresentano proprio come sono riuscito a far girare la ruota nel ghiaccio. Ah infatti come... Allora... Ruote normali. Abbiamo sì, abbiamo aspettato una grande nevicata, avevo già annunciato, io sempre sono stato aiutato dalle scuole sciistiche dello Stelvio, altrimenti le mie prese sullo Stelvio sarebbe stato impossibile realizzarle, dovevo avere degli aiuti. Una grande nevicata, muraglie di neve, mi hanno battuto 48 tornanti col spazzaneve schiacciando, rendendo tutto rissio. Sono andato con i giudici di corsa, ho cominciato questa e non portavo gli occhiali perché avevo paura che il fiato mi annebbiasse le denti. Quindi guardare 48 tornanti col sole che ti acceca con il riflesso della neve bianca è terribile. Assolutamente. E dovevo scrutare metro per metro con gli occhi, dovevo trovare qualche curzo di neve in mezzo alla strada che ti prendesse la ruota e era a terra. Quindi io non contavo i tornanti perché non finivano mai. Quando sono arrivato a sei tornanti dalla cima, avevo i muscoli o mai, contrazioni muscolari, gli occhi bruciati dal sole, avevo gli occhi rossi per forzare la vista. E il medico mi dice, senda che lei sta per morire. Ha visto che avevo gli occhi sbarrati. E lì, in quel momento, non avevo più la forza. E subentrata, lì è la cima, lì devo arrivare. Capisce? La forza mentale, dicono i medici che vado al di là della forza fisica. Ho fatto gli ultimi sei tornanti con contrazione muscolare, mi sono accassiato dal suolo e quando sono arrivato al 48esimo tornato. E lì è arrivata la forza mentale, più che la forza fisica. Dicono che ho un ricarico di nervoso, sembro calmo, ma che mi fa riuscire a fare quello che poi umanamente si richiede impossibile. Mi hanno portato all'ospedale, avevo i piedi congelati, sono stato 16 giorni con gli occhi rossi e lì ho impreso innumerevoli medaglie d'oro e riconoscimenti ufficiali dai più grandi campioni della storia del ciclista. Questa bicicletta che vedete sarà quella probabilmente che farà il nuovo record della notte, quello che Gustav Vladimir ha detto non posso raccontare al mio capitano quello che i miei occhi hanno visto questa notte, quello mi licenzia dalla squadra. Se era già leggenda il primo libro, pensi, quello che hanno visto, quello mi dice, oh tu mi prendi giro, quello mi rischio di che mi licenzi dalla squadra, ha detto. Ecco, queste biciclette, parliamo della bicicletta ma lo facciamo dopo la pubblicità, così dopo ci racconta anche alcune caratteristiche tecniche. Pochi secondi, poi siamo di nuovo con voi, naturalmente con il nostro atleta, non si può più ripremiato perché non possiamo andare da Guinness, prego. Niente, allora...